Si parlerà di Asperger e di autismo ad alto funzionamento domani alle 17 presso l'Istituto Comprensivo Marconi di Batipaia. L'associazione OISM approverà a fornire risposte concrete alle famiglie che cercano di capire meglio la neurodiversità. Sebbene l'autismo sia una condizione in crescita, la sindrome di Asperger e l'autismo ad alto funzionamento sono condizioni più difficilmente riconoscibili e spesso confuse con altre. Nel corso del convegno di domani si darà spazio alle voci e alle testimonianze di chi lavora o è genitore di questi ragazzi controcorrente.